Smaltiti panettoni e cenoni per il basso Girardi è tempo di tornare in campo. Archivato il 2019 con la sconfitta di misura nel derby contro il campo basso, la prima del 2020 mette in programma la sfida interna contro la capolista San Nicolò Notaresco. Match sulla carta molto impegnativo, ma i ragazzi di Farina Gena a tre occasioni hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Capitolo mercato. Ufficializzato nella giornata di venerdì l'acquisto del portiere rituano classe 99 dall'entella Ovidius Siaulis, che sarà subito a disposizione del mister. Tornando al campo, mister Farina contro la prima della classe dovrà rinunciare a capitano Sergio Ruggeri al bomber Giovanni Cheremateng, out per squalifica, mentre Felice Devise è fuori per infortunio. Tre pilassi della squadra, formazione quindi tutta da inventare, ma che venderà cara la pelle parola di Farina. In porta, ballottaggio come detto tra l'ultimo arrivato e Caparro, con il primo favorito. Lina difensiva composta da Lepore, che in settimana se ne è andato poco e causa febbre, ma dovrebbe recuperare. Michalowski, Corbo e Nespoli. Centrocampo con Dilullo, Fazio, Gargiulo e Pesce. In attacco la coppia Bruni-Petrone, con Michele Coglia che si gioca il posto con Bruni. Di conto ci sarà un notaresco che vuole ricominciare a correre dopo lo scivolone di Fiuggi. Mister Vagnoni contro gli altomolisani si affiderà al suo collotato 4-4-2. Monti in porta, Di Stefano, Morganti, Salvatore e Cancelli in difesa. Centrocampo a tre, formato da Frulla, Meler e Romano. Si va letta dietro il 2 di punte, Sansovini-Pomante. Partita molto difficile per il giallo-blu, ma specie in casa e Vassor Girardi sa farsi rispettare. Nella partita d'andata successo esterno Molisano per 5-3. Al Civitelle con Fisco di Niso fissato alle 14.30, Vassor Girardi notaresco sarà diretta da Daniele Cannata di Faenza, coadjuvato da resistenti di linea Domenico Castaldo di Frattamaggiore ed Ernesto dell'Isola di Sapri.